Come giusto ringrazio dell'opportunità che mi viene data di raccontare un po' cosa fa il laboratorio di ricerca che per essere precisi non è diretto solo da me ma anche dal collega Fabio Roli dell'Università di Cagliari che non può essere presente, che si scusa per questo e con cui abbiamo concordato le linee generali dell'intervento e una parte dei contenuti. I commenti e le valutazioni che faccio invece sono solo di mia esclusiva responsabilità. Prima di cominciare lasciatemi fare un piccolo amarcord che può essere utile per capire perché mi è piaciuto molto cercare di occuparmi del laboratorio di ricerca. E questo amarcord, mi riallaccio alle cose che diceva il professor Maciocco, è avvenuto quando il primo anno abbiamo avuto questi studenti che si erano iscritti, avevano superato il test e che ci hanno detto ahimè non possiamo frequentare. E allora all'interno della facoltà di architettura abbiamo iniziato con il professor Maciocco, con il professor Tagliagambe, con il collega Ivan Blecic abbiamo cominciato a ragionare sul che cosa fare. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di, oltre a metterci al livello di progettazione in quella che poi è diventato il progetto Unite e l'Uni Sofia, è stato quello di lavorare sui nostri strumenti di supporto alla didattica. Giustissima l'osservazione che veniva fatta. Noi abbiamo sempre pensato che non ci fosse, che non ci potesse essere una separazione tra, e poi ci tornerò, la didattica ordinaria e quella straordinaria, che in realtà fosse un continuum che la didattica, specialmente per quanto ci riguarda, è chiaro che le cose sono diverse in altri corsi di laurea, la didattica dell'architettura dovesse mettere insieme la parte progettuale in presenza con quella a distanza e che non molto diversa era la situazione degli studenti normali, tra virgolette, degli studenti frequentanti e quindi l'idea era di costruire un'unica comunità di apprendimento. Ci tornerò su questo. Abbiamo pensato, quando è stato ideato il laboratorio di ricerca, che vedremo a due settori, un settore basato a Cagliari e un settore basato a Dalghero, a Sassari, l'idea era che il laboratorio di ricerca fosse un ambiente di sperintazione e sviluppo di soluzioni e prototipe, a partire dalle esigenze concrete dei produttori, cioè il riferimento era coloro i quali erogano il servizio in primo luogo, quindi in primo luogo per sussidiarietà i corsi di laurea e poi via via l'insieme delle altre entità, in una dimensione strategica e di autosufficienza di Unitel. L'idea è che Unitel, ci auguriamo tutti che prosegua in questo processo, però sia capace di gestire autonomamente sia la produzione dei contenuti, sia la costruzione della piattaforma, sia la loro gestione, e quindi fosse anche un supporto di progetto alle attività didattiche. E non doveva essere un servizio di pronto intervento o di supplenza per la gestione quotidiana o per lo sviluppo di applicazioni di routine o di ingegnerizzazione dei prodotti. Cioè l'idea era che fosse, anzi che sia, un vero laboratorio di ricerca. Bene, nel confronto all'interno col collega Roli, ma anche con Unitel e Unisofia, abbiamo sviluppato quattro filoni di ricerca. Uno, due di questi sono presidiati dai colleghi di Cagliari prevalentemente, anche se lo sviluppo del ragionamento è stato fatto insieme, poi ci tornerò, sono interfacce uomo-macchina avanzate, che è sviluppata dalla sede di Cagliari, tecnologie multimediali, sempre dalla sede di Cagliari, giochi e strumenti interattivi, su cui mi dilungherò un po', proprio perché essendo nella sezione orientamento e riallineamento, questa è la questione più vicina alla sezione stessa, e spazi di lavoro collaborativo. L'altra cosa è stata, anche qui dirò qualcosa, il supporto scientifico-tecnologico, come dicevo prima, non alla soluzione dei problemi quotidiani, ma come supporto all'analisi delle problematiche relative all'architettura, alla progettazione hardware e software del sistema Unisofia. E dirò che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo in ciascuno di queste cose. Ma fatemi prima spiegare come quelle quattro cose stanno in un quadro concettuale. Il quadro concettuale è questo. C'è un problema di gestire le interazioni, le interazioni sono, voi capite, multiple. Sono le interazioni tra gli uomini e gli strumenti, tra gli artefatti e gli esseri umani. Sono le interazioni tra gli studenti, i tutores e i docenti, le interazioni tra i docenti, l'interazione tra gli studenti. Quindi il problema era quali strumenti possono essere utilizzati per gestire le interazioni. Seconda cosa, per gestire i contenuti, è chiaro, lo vedremo, non basta erogare dei contenuti, bisogna avere anche dei sistemi. Man mano che il nostro mondo, il nostro ambiente cresce, questi sistemi devono essere sempre più sofisticati ed efficaci per andare a rintracciare i contenuti, per poterli mettere insieme, per potersi costruire dei percorsi. La terza cosa, e qui condivido le cose che sono state dette da molti prima di me, costruire comunità di apprendimento. Il processo di apprendimento non è un processo individuale, o meglio, non è in generale un processo individuale. E comunque questo processo di apprendimento non è un processo individuale, ma ha bisogno della costruzione di comunità. Bisogno tanto più forte, quanto più la presenza fisica è minore o comunque non preponderante. E l'altro è di rendere naturale le interfacce, fare le cose come le facciamo, come le dobbiamo fare, come siamo abituati a farle. Questi quattro grandi concetti sono all'origine dei temi che abbiamo sviluppato, che io in generale tratterò in modo abbastanza rapido, perché? Perché trovate i rapporti di ricerca disponibili sul sito. Rapporti di ricerca, che sono rapporti di ricerca, lo dirò, in progress, iniziali, ma che hanno già individuato alcuni obiettivi principali. Il primo, lo vedete in azzurro, azzurro, Cagliari, Verde, Alghero, è solo una scelta cromatica, non so se adeguata, facilitare l'interazione tra l'uomo e la macchina nella formazione a distanza, anche con riferimenti ad utenti con disabilità. Aumentare la sicurezza dei sistemi informatici e la loro personalizzazione rispetto alle necessità dell'utente. Quindi questo è l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere alla fine del processo di ricerca. Che cosa si sta facendo e che cosa è stato fatto? La prima attività è stata quella di utilizzare le cosiddette tecnologie biometriche, realizzando una stazione, che è già operativa, anche se prototipalmente, per l'autenticazione biometrica delle identità personali, basata sul riconoscimento del volto degli impronti digitali. Voi capite quanto importante questo è in temi di gestione dei corsi, sia per in qualche modo poter identificare le attività degli studenti, sia in prospettiva per le valutazioni, sia per le possibilità di interazione. Quindi questa è un'attività che la sede di Cagliari porterà avanti, che ha già sviluppato su un prototipo e di cui potete trovare una dimostrativa nel portale di Unsofia. Secondo, tecnologie multimediali. Obiettivi principali. Catalogazione automatica di documenti multimediali e interrogazione di basse dati contenenti documenti multimediali. Anche qui, l'ho già detto, perché è importante questa cosa. lo studente, il membro della nostra comunità, specie se, come ci auspichiamo, questa comunità si amplia, perché poi ci tornerò, non riguarderà solo, potrebbe non riguardare solo, gli iscritti ai corsi di laurea. La dimensione della lifelong education è stata più volte evocata, ma c'è anche la possibilità di entrare in reti, anzi, c'è la necessità di entrare in rete più ampia a livello internazionale, come abbiamo già, come Unisofia ha già cominciato a fare. In questo caso, la capacità di classificare e di trovare in modo intelligente documenti, di poter organizzare i percorsi, è ovviamente essenziale. Anche su questo ci sono dei risultati che sono disponibili. è un sistema per la categorizzazione automatica dei documenti di supporto all'inserimento di dati multimediali, nel Media Assets Management del progetto SOFIA, è un sistema che è in fase di sviluppo, ma che è stato sperimentato sui documenti disponibili in un corso di laurea tradizionale. Ecco, questo è interessante. Le due cose, come abbiamo detto tutti, debbono stare insieme. Il terzo filone di ricerca su cui mi soffremerò un pochino di più, sia perché è una cosa di cui qualche tempo fa mi sono occupato e continuo a appassionarmi, che è quella del gioco, che è forse una delle poche cose che so fare davvero, ed è quella dei giochi per l'orientamento e la valutazione, che si inserisce in modo diretto nell'attività che abbiamo sentito descrivere poco fa. Obiettivi principali, disporre di uno strumento efficace e versatile per l'orientamento e l'autovalutazione. Secondo, costruire comunità e conoscere a fondo l'insieme delle opportunità e delle prospettive di questo ambiente di cui parlavamo. Perché il gioco? Noi abbiamo pensato a un particolare tipo di gioco, un gioco che è stato sviluppato tanto tempo fa, che però è in qualche modo alla base di uno dei pochi, tre o quattro sono gli archetipi alla base dei giochi, questo è uno degli archetipi, un itinerario in cui si devono risolvere enigmi e bisogna orientarsi in un mondo sconosciuto, questo è la metafora. È basato su storie nelle quali possono essere usate tecniche per la soluzione di soluzioni enigmatiche e quindi offre un'accassione per mettersi in relazione e un'opportunità per ascoltare anche. Serve per comprendersi, scambiare punti di vista tra gli individui e i gruppi e diventa il contesto all'interno del quale si apprendono nonzioni, competenze e salvagher. Mi ricollego all'intervento precedente. L'approccio individuale, eppure utile in alcuni casi inevitabile, non è l'approccio, come diceva giustamente la collega, non è l'approccio prioritario. Che cosa abbiamo fatto su questo? Abbiamo realizzato un prototipo, questo prototipo, poi lo dirò, in realtà non è un prototipo, è un gioco che funziona perché questo progetto l'abbiamo sviluppato insieme con il centro METID del Politecnico di Milano. Loro avevano un'urgenza di farlo partire, è partito ieri l'altro, ci sono già 400 persone che stanno utilizzando questo gioco, il gioco l'abbiamo costruito, ideato, pensato insieme, adesso dobbiamo metterlo a punto, poi vedremo brevemente perché serve metterlo a punto per Sassari. È un gioco in rete multiutente, è basato sulla soluzione di enigmi e sulla conquista del territorio, è fatto da squadre di quattro giocatori, cioè sono squadre che si muovono insieme a decine di altre squadre, nel caso specifico 100, se è vero che sono 400 quelli che si stanno giocando in questi giorni a Milano, un gioco su più livelli, esplorazione, scelta e valutazione, con l'obiettivo di orientarsi, autovalutarsi, scegliere, che ha come meccanismo l'esplorazione visiva dell'ambiente reale, cioè un motore grafico basato su foto a 360 gradi, questa è stata una scelta che serve anche a evitare che pesi troppo e quindi che sia difficile da utilizzare e che fornisce sia un risultato individuale sia un risultato di squadre. Non entro nel dettaglio della meccanica del gioco, però voglio solo dire che queste squadre si muovono in un ambiente, dentro quest'ambiente ricevono un enigma, cioè un caso da risolvere, un giallo da chiarire, un colpevole o un movente o un'arma da trovare, ricevono questo, tutti ricevono lo stesso enigma, per risolvere questo enigma bisogna catturare degli indizi, per catturare degli indizi bisogna sapersi muovere in quell'ambiente, per sapersi muovere in quell'ambiente bisogna raccogliere informazioni e quindi andare nei diversi siti, nei diversi luoghi dove questa informazione si trova, bisogna sapere, avere la capacità di connettere logicamente le informazioni, bisogna interagire, perché ciascuna squadra, in questo caso abbiamo immaginato che possa essere fatta da un architetto, da un comunicatore, da un amministratore e da un eclettico, quindi questi quattro personaggi devono mettersi insieme, ciascuno sa fare delle cose meglio di altre, ricevono degli oggetti, alcuni di questi oggetti contengono gli indizi, insieme, mettendo insieme questi indizi, compongono una sorta di puzzle che è il logo di, in questo caso il logo di filosofia e allora a quel punto si è in grado di rispondere e di risolverle. Ovviamente questa cosa consente di valutare il contributo individuale, quanto uno si è dato da fare per trovare le informazioni, per interagire con gli altri, il contributo dato alla squadra e quindi c'è il classico meccanismo del gioco che come è noto prevede che qualcuno vinca. qual è la cosa molto interessante è che il motore del gioco è autonomo rispetto ai contenuti, cioè è un gioco quadro, è un gioco cornice, noi possiamo prendere quel motore che stiamo sviluppando e adattarlo a contenuti diversi semplicemente modificando i file che compongono questo sistema. I dettagli tecnici che sono tecnici non ve li risparmio. Qui abbiamo alcune schermate di quello che si può fare, una ipotesi di interfaccia, i personaggi che si incontrano, sospetti, ruoli, cioè è un gioco gioco, insomma, ripeto, studiato appositamente per non essere troppo pesante, quindi per poter essere giocato e gestito da un server, non servono cose molto complicate, anche con decine di giocatori in contemporanea e questo è il terzo punto. Quarto punto, strumenti di lavoro collaborativi per la didattica del progetto e per la progettazione a distanza. Obiettivi principali sono sperimentare nei reali contesti didattici un'ampia gamma di apparati e strumenti di ingresso e uscita per verificare la loro efficacia ed efficienza in termini comunicativi di rappresentazione e di collaborazione. Verificare il grado di versatilità e di integrabilità dei sistemi indagati con le piattaforme di e-learning e in particolare con Moodle, perché il problema è il saggio bricolage, il bricolage fatto con un progetto, che è una cosa molto interessante, e progettare e sperimentare un prototipo dimostratore di una soluzione integrata, cioè che integri l'insieme di questi strumenti. Da dove siamo partiti? Ragionando su cosa è collaborazione, didattica e progettazione a distanza. E l'analisi di funzionalità, confronto e sperimentazione in reali contesti applicativi di alcuni strumenti di collaborazione sincrona disponibili nell'attuale panorama. Abbiamo fatto un'analisi, una griglia di organizzazione e una serie di confronti che sono presentati nel rapporto. Che cosa vogliamo ottenere? Vogliamo ottenere un sistema che consenta forme di interazione con possibilità di assegnazioni flessibili di compiti e permessi. Non c'è una mente che attiva. Ci sono permessi e attivazioni diffuse e distribuite. Trovare soluzioni sia per la progettazione collaborativa in sincrona e in copresenza, sia per la strutturazione e gestione della memoria delle interazioni e dei risultati. scomporre e ricostruire pratiche reali e tradizionali di progettazione e di didattica del progetto per verificare che cosa si perde, che cosa si guadagna, che cosa bisogna cambiare, che cosa bisogna mantenere, che cosa bisogna inventare, che cosa bisogna trasformare per trasporle in strumenti digitali e telematici. E poi la consapevolezza è che l'attività di progettazione è un processo decisionale in cui l'avvicinamento è il risultato finale, ha bisogno di tecniche, ma queste tecniche devono percorrere il processo reale, cioè le certezze e le incertezze del processo negoziale. Adottare un approccio non esclusivamente orientato allo schermo, anche questo si collega con quello che dicevamo, ma la possibilità di utilizzare strumenti come si usano gli strumenti, non dovendo essere legato allo schermo, quindi con strumenti e supporti di input e di output. supporto scientifico e tecnologico, non credo di avere il tempo di dire qualcosa su questo, però diciamo che gli strumenti di community e di comunicazione che vi ha presentato il collega Maciocco sono in qualche modo anche il frutto di questo tipo di rapporto, con questa indicazione forte che davo all'inizio, che questo è un classico esempio, la produzione di questi strumenti, è un classico esempio di un processo che deve avere due caratteristiche, essere fortemente bottom up nella ideazione dei singoli strumenti, che vanno costruiti a partire dalle esigenze, misurati e ricostruiti a partire da quelle esigenze, adattati a quelle esigenze, e deve avere però una grande capacità di progettazione degli obiettivi generali e dei risultati che si vogliono ottenere, quindi alla vecchia contrapposizione c'è un approccio bottom up nella costruzione degli strumenti che devono essere flessibili, aperti, la scelta dell'open source che secondo noi deve essere una scelta strategica non negoziabile nel meglio periodo, non negoziabile nel meglio periodo, non è solo perché non costa niente, ma perché è l'unica che permette di realizzare questi risultati, le altre non lo permettono anche se apparentemente possono essere un pochino meglio e spesso non sono meglio e l'aspetto su cui poi abbiamo continuato a lavorare sono questi aspetti di community, cioè di costruzione, di collaborazione e la cosa interessante che abbiamo verificato è quante relazioni si stanno costruendo tra gli studenti da telematica e quelli tra virgolette normali e quanto quello che facciamo per gli uni serve per gli altri e questo l'hanno detto anche altri colleghi. vado verso la conclusione. Una scelta che noi abbiamo fatto è stata quella di non dotarci di infrastrutture. Abbiamo utilizzato quelle che avevamo per i lavoratori, i computer di ciascuno di noi, le connessioni ad ISL che ciascuno di noi abbiamo, abbiamo messo tutte le mele nel piatto, cioè le risorse interamente per borse di studio, per attività di ricerca, segni di ricerca, consulenze ad hoc. Certo, questo ci penalizza sotto alcuni punti di vista, dobbiamo rincorrere le cose ma in qualche modo ci avvicina alle situazioni reali. Due ultime considerazioni. Il laboratorio di ricerca ho intitolato un divenire in essere. Che cosa abbiamo fatto e che cosa vogliamo fare? Abbiamo fatto questo, abbiamo prodotto nei tempi previsti i primi rapporti di ricerca su ogni dei temi e le diverse sperimentazioni e la produzione di prototipi sono in corso. Abbiamo vato proficui rapporti di collaborazione con il centro metodo del Politecnico di Milano con cui abbiamo ideato e realizzato il gioco già in produzione come vi dicevo nella versione del Politecnico di Milano. Nel disegno del gioco dobbiamo dare i meriti che ha al collega Alberto Coloni che dovrebbe essere qua domani ma mi pare di aver capito che forse non viene non so se ci sono informazioni su questo. Chi è che ha lavorato a questo progetto? Fabio Roli a Cagliari e con lui Luca Didaci o Didaci mi scuso se pronuncio male Gianluca Marcialis e Eloisa Vargio Adalghero chi ha fatto le cose davvero è stato il mio amico e collega Ivan Blecic che ha guidato questo processo io ho fatto come sempre solo da vigile urbano ma con me e lui hanno collaborato Roberta Cocco Marco Pisano Anna Franca Sibirio e Stefano Scotti credo di avere che cosa dobbiamo dire per il futuro anche se finissimo quando è previsto che succeda cioè se chiudessimo nei due anni che ci sono stati dati saremmo contenti di quello che stiamo facendo e pensiamo che sarà utile quello che produrremo e che il rapporto qualità prezzo sarà eccellente ma e qui mi riallaccio a quello che hanno detto gli altri colleghi ci possono essere le condizioni perché il laboratorio sopravviva si consolidi ed estenda la sua missione divenendo una struttura stabile di supporto all'e-learning per UNITED per le università di annoio lo ripeto ancora una volta l'idea tra intreccio tra studenti normali e telematici e l'approccio blended per tutti sono costitutivi del nostro progetto per le scuole per le attività di formazione per l'educazione permanente insomma non ci auguriamo di avere cent'anni di vita ma qualche anno in più sicuramente sì grazie 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 a tutti